Nell'anno del Nobel per la medicina gli scienziati che scoprirono il virus dell'HCV nel lontano 1989 si è purtroppo registrato un calo significativo dei pazienti avviati ai trattamenti nello scorso anno 2020. La pandemia infatti ha aggravato una riduzione già provocata dalle difficoltà nella ricerca del cosiddetto sommerso ovvero quei pazienti affetti dal virus HCV ma inconsapevoli della propria situazione. Proprio su questi temi si sono soffermati una serie di webinar con il progetto Moon promosso da ABV, infettivologi, gastroenterologi, internisti a confronto per affrontare lo stallo e proporre nuove strategie per i prossimi anni. Quando è iniziato il progetto Moon i trattamenti avviati ai dati al 21 settembre 2020 erano stati 213.052. L'incremento negli ultimi tre mesi dell'anno è stato di quasi 4.000 unità, segno di una piccola ripresa rallentata però dalla seconda ondata del covid-19 che però non è sufficiente per perseguire con adeguata convinzione l'obiettivo di eliminazione dell'epatite C dal nostro paese entro il 2030 come auspicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il risultato resta ancora possibile soprattutto grazie all'innovazione garantita dai nuovi farmaci antivirali ed azione diretta che permettono di eradicare il virus in maniera definitiva in sole 8 settimane e senza effetti collaterali. Ancora prima dei trattamenti devono essere realizzati gli screening fondamentali per scovare il sommerso. Coloro che non sanno di aver contratto il virus devono essere sottoposti a questi test. Si stima possano essere tra i 200 e i 300 mila soggetti o forse più. Per questo i relatori hanno messo a disposizione le loro diverse esperienze al fino di suggerire modelli da replicare tra le diverse regioni e le società scientifiche e le associazioni pazienti sono pronte per affrontare questa nuova sfida. Nel nostro paese abbiamo tutte le possibilità di instaurare un piano nazionale di eradicazione del virus C che ricordo è uno degli obiettivi WHO. Una delle risoluzioni di WHO è l'eliminazione se possibile dei virus cronici dell'epatite a livello mondiale e l'Italia aderisce a WHO e quindi si è impegnata a fare un piano di diagnosi e poi eradicazione globale. Quello che si può fare è che si potrebbe sfruttare questo disastro del Covid come? Nel momento che noi dovremmo andare ad esempio a fare le vaccinazioni per il Covid è chiaro che dovremmo andare prima di fare la vaccinazione a vedere la sierologia perché calcolate che nel nostro paese scopriremo che un sacco di gente ha avuto questo Covid e non sapeva di averlo avuto. Ecco potrebbe bastare in quel momento aggiungere alla sierologia per il Covid la sierologia per HCV e a quel punto una volta che abbiamo identificato i pazienti con HCV, linkarli ed eradicare. È chiaro che questo è un piano molto ambizioso ma fattibile. D'altronde il piano di realizzazione globale dell'epatite C è una delle cose in cui il nostro Ministero della Salute si è impegnato nel corso degli ultimi anni. Quindi un suggerimento potrebbe essere combinare al momento in cui faremo la sierologia per la vaccinazione globale del Covid ai nostri cittadini anche il test per HCV e a quel punto eradicare i soggetti che dovessero essere portatori del virus. Il discorso della semplificazione terapeutica, del minimo sforzo che occorre oggi fare in confronto a ieri per curare in maniera definitiva un'infezione cronica da virus C con un'attesa di successo che si approssima al 100%, beh questo è un qualcosa la cui importanza non può sfuggire a nessuno. Addirittura otto settimane di terapia possono essere sufficienti nella stragrande maggioranza dei casi a ricondurre al silenzio quest'infezione che in condizioni evolutive sappiamo che cosa può portare non solo in termini di malattia epatica ma per tutto il coinvolgimento sistemi. Se ne è accorto anche l'OMS che ha definito le coordinate diciamo prospettiche per quello che potrà essere anche un ambizioso progetto di eradicazione e lo si fa perché c'è lo strumento e lo strumento è il farmaco. Il farmaco non solo cura le persone ma diciamo secca quel serbatoio per le nuove infezioni e quindi crea le premesse per una circolazione sempre minore delle infezioni. Io credo che il richiamo a riprendere in mano per quanto possibile in tempi che comunque ci impongono evidentemente dei compiti prioritari, diciamo il richiamo sull'epatite C è un richiamo che occorre non solo fare ma ripetere e vivacizzare con una certa frequenza perché abbiamo già perso del tempo. Per noi patologi che abbiamo visto la scoperta delle parite C, la comparsa di cure delle parite C, abbiamo studiato negli anni la storia naturale dell'infezione, l'infezione Covid in qualche modo non è molto diversa per alcuni aspetti dalle parite virali, è un virus che ha comportamenti simili, le difficoltà nella diagnosi all'inizio, poi le difficoltà nel capire l'andamento dei malati e in qualche modo siamo stati avvantaggiati nel capire come affrontare questa malattia e per questo in realtà siamo stati anche tra quelli più coinvolti nella gestione dei malati, nonostante tanti di noi non abbiano esperienza clinica in ambito respiratorio. Questo ha portato ovviamente a tutta una serie di effetti purtroppo negativi per i nostri pazienti cronici con epatopatia. Speriamo che questa seconda ondata in qualche modo siamo in grado di affrontarla in maniera diversa attuando una serie di misure dei nostri centri che garantiscano un effetto minimo dell'epidemia covid sugli pazienti con epatite virale ad esempio e secondo me dobbiamo anche approfittare di qualche possibilità che è emersa in questo periodo, penso all'utilizzo della telemedicina, penso all'utilizzo della dispensazione dei farmaci a casa, sul territorio, penso alla possibilità anche di coniugare percorsi di screening, di diagnosi del covid alla diagnosi delle parite C. Chiaramente sulla identificazione dei pazienti con epatite C sappiamo molto, sappiamo come farla, sappiamo in chi farla, ma la difficoltà è prendere la teoria, passarla sul campo e riuscire a raggiungere la popolazione. Io vorrei proseguire su questa linea di sfruttare questa epidemia per identificare anche i malati pratici.